Il Cinema Teatro Garden di Rende ha ospitato la manifestazione finale delle giornate regionali della scuola, organizzate dalla Regione Calabria in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e il Liceo Scientifico Pitagora di Rende. Le giornate della scuola, pensate insieme con il Presidente Oliverio e realizzate per la prima volta lo scorso anno, sono un momento di incontro tra la scuola e la società in tutte le sue diverse componenti, volute proprio dalla Regione Calabria, volute perché noi sappiamo che c'è un mondo di talenti e di competenze nelle nostre scuole che merita di essere meglio conosciuto e di essere posto all'attenzione del mondo esterno e voluto anche perché in quanto istituzioni è necessario incontrarsi e conoscersi, soprattutto chi deve pensare alle politiche per l'istruzione deve sapere che cosa c'è in campo. Sono state giornate molto partecipate, quest'anno siamo stati a Tropea, siamo stati a Ciro Marina, alla Mezzia, siamo stati a Palmi, si conclude a Rende. In ogni giornata una vera e propria festa della scuola con momenti anche però di riflessione e poi un momento finale dedicato ai nuovi dirigenti, ai dirigenti messi in ruolo quest'anno, ai quali insieme col Presidente abbiamo voluto augurare buon lavoro con un attestato e con un volume che racconta della presenza di San Francesco di Paola che è il santo patrono della Calabria. Nel corso della cerimonia conclusiva è stato anche presentato un docufilm che racconta attraverso le voci di alcuni scrittori l'identità autentica della Calabria e della sua gente. Quest'anno abbiamo presentato all'interno delle giornate un docufilm che è stato prodotto dalla Regione e che vede l'impegno di quattro tra i più grandi scrittori calabresi e una scrittrice, giornalista scrittrice nel raccontare le ragioni della Calabria, l'essenza della Calabria. Noi di questo docufilm abbiamo prodotto 300 pennette che sono state distribuite agli istituti scolastici superiori della Regione e io in occasione di queste giornate sto pregando ai dirigenti e ai docenti di farlo vedere, di prendere questo docufilm come il manifesto dell'identità positiva della Calabria, di diffonderlo tra i giovani affinché possa suscitare dibattito e pensiero ma soprattutto affinché possa renderli più forti di quella che è un'identità positiva. Grazie. 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 Grazie.